Ho accettato di scendere di categoria semplicemente per due motivi. Uno è Bari e l'altro è il direttore. Non sono venuto a Bari per soldi, per l'aspetto economico, sono sincerissimo, non sono venuto qui per questo. Come se mi fossero arrivate altre proposte dalla Citi, dico con molta sincerità che le avrei rifiutate. Due ragioni per accettare Bari e la seconda esperienza in C dopo quella di Alessandria e una carriera con oltre 250 partite giocate in B, Raffaele Pucino riavvolge il nastro delle sue prime cinque settimane in bianco rosso e lo fa dopo aver messo insieme le prime due presenze da titolare. 180 minuti in quattro giorni contro Messina e Monopoli, due vittorie. È iniziata così questa stagione della pura verità, in questa squadra non ci sono titolari e nessuno si sente titolare, quindi questo è un grande punto di partenza. Sappiamo tutti che dobbiamo dare il 110% durante la settimana per guadagnarci il posto perché c'è chi rimane fuori e è ugualmente bravo a chi gioca. Pucino e Belli a destra, Mazzotta e Ricci a sinistra, quattro nomi per due posti, tutti con un passato in categorie superiori in comune. Se Belli è sin qui il più impiegato del poker, l'aumento del minutaggio di Ricci e Pucino, arrivati a fine agosto, è proporzionale alle settimane di presenza in gruppo. L'ultima partita ufficiale l'avevo fatta il 7 maggio, non ho fatto ritiro, quindi sono arrivato in condizioni fisiche e ancora ora non sono ottimali. Quella per l'ex difensore dell'Ascoli è stata una trattativa lunga iniziata a giugno quando il Bari cercava anche Brosco e conclusa agli sgoccioli del calciomercato. Io e Riccardo appena è terminata la stagione lì ad Ascoli eravamo praticamente senza contratto e posso confermare che c'erano le trattative che fa sì di arrivare prima qui a Bari. Purtroppo poi per motivi societari, per motivi di mercato, questo non è potuto accadere, ma si è verificato dopo. Si è verificato dopo e sono contento di questo. A Bari ha trovato una platea da B, Pucino, i quasi 10.000 spettatori di domenica nel derby contro il Monopoli, primato per la categoria nel weekend, sono il punto di partenza. Alle porte c'è Bari Turris, altro incrocio con una seconda della classe. Credo che queste piazze debbano avere veramente l'onore di lottare sempre per qualcosa di importante e riuscirci in un momento del genere credo che sia un risultato bellissimo. Il laterale classe 91 ha giocato due finali play-off per la A, a Varese prima e Pescara poi, senza però riuscire a fare il grande salto. A Bari ci è arrivato. Per rimanere nella storia, perché credo che quest'anno se raggiungiamo l'obiettivo che vogliamo credo che possiamo rimanere nella storia del Bari, credo che questo è un grande motivo d'orgoglio.